Etica e informazione, la psicologia nel racconto di vittime e colpevoli. È stato questo il titolo del corso deontologico per giornalisti organizzato dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania. Al centro del dibattito il ruolo del cronista nell'analisi e nella trattazione dei fatti di cronaca. All'incontro hanno preso parte tra gli altri il segretario aggiunto FNSI Claudio Silvestri, il consigliere del Sindacato Fabrizio Cappella, la segretaria del Sindacato Unitario Giornalisti Campania Geppina Landolfo e il giornalista Luca Maurelli. Io credo che il giornalismo oggi necessiti, mai come oggi appunto, di elementi di conoscenza anche degli aspetti psicologici, addirittura di studio. Io mi sono occupato della psicologia sia da paziente che da studioso, avendo anche svolto gli esami all'università sul tema, in relazione proprio alla mia professione, perché occupandomi nei libri che scrivo di fatti di cronaca, dovendo approcciare talvolta le vittime quasi sempre, ma a volte anche i colpevoli, c'è necessità di in qualche maniera stabilire un esso, un contatto, un filo con queste persone. Bisogna assolutamente evitare il rischio della spettacolarizzazione della notizia, soprattutto quando, come nel caso di cui parlavamo oggi qui, ci sono vittime e carranifici. Dobbiamo in qualche modo recuperare quelle che sono poi le caratteristiche della nostra professione. Durante il dibattito si è discusso anche dell'impatto mediatico delle tragiche morti di Livia a Barbato, con la testimonianza della mamma, Angela Buanne, e di Adriana Flagiello, con la sorella Valentina Flagiello, che ai nostri microfoni ha sottolineato. Molti dicono che la giustizia non viene incontro alle vittime, noi siamo stati invece accolti dalla giustizia e veramente mi sento di dire anche dai giornalisti, che sono stati poi la nostra voce, perché era l'unico modo per comunicare all'esterno, al mondo, quelle che era un vissuto.